Non solo panelle, crocchette e arancine, Giussi Battaglia nota grande pubblico per il suo programma Giussina in cucina e molto di più e lo ha dimostrato ieri alla presentazione del suo terzo libro Le ricette della mia vita, organizzato dal Circolo del Tennis. Noi come Circolo del Tennis ovviamente siamo votati al tennis, allo sport in generale, al padel, abbiamo ragazzi che giocano a tutti i livelli, dalle giovanili a tante altre campionate, però abbiamo voluto dare una svolta, nel senso che abbiamo voluto offrire ai nostri soci, ma non solo ai soci, a tutti coloro che hanno piacere di venire qui al Circolo con una serie di eventi, presentazioni di libri, presentazioni di testi, di autori e dare qualcosa in più ai nostri soci e a tutti coloro che hanno piacere di venirci a trovare. Giussina fa parte di questo lungo elenco di eventi, ci ha fatto piacere davvero che ha accolto il nostro invito, è una persona che stimiamo tutti, è riuscita a dare della Sicilia un'immagine diversa, che è un'immagine anche piacevole, che è la cucina, la cultura culinaria e quindi qualcosa che è gradita anche a tantissime persone, anche se non sono sportive appunto. La più famosa ambasciatrice gastronomica della Sicilia ieri ha incontrato il suo pubblico trapanese e ha raccontato le sue origini, da giornalista a cuoca televisiva. Allora, Giussina in Cucina nasce dall'incoscienza di un direttore di rete di Food Network che ha creduto che io potessi essere un po' l'ambasciatrice della cucina siciliana, è così nato per caso nel 2020 con il lockdown questo progetto, che è diventato qualcosa di più, e affiancato al progetto televisivo sono nati i miei libri e oggi sono qui perché presentiamo il mio terzo libro, La ricetta della mia vita, che è un po' un viaggio in cui racconto sia le mie ricette tradizionali siciliane, ma anche le ricette della mia quotidianità, quello che io mangio con la mia famiglia, con i miei amici, perché la gente pensa che io mangio sempre tutto super siciliano, sfincione, panelle, arancine, le mangio anche, ma generalmente nella mia quotidianità mangio anche altre ricette semplici, facili da mettere a tavola anche quando si ha poco tempo. Il libro presentato ieri ha una prefazione stellata, quella dello chef Antonino Cannavacciuolo. Quando gliel'ho chiesto ad Antonino di scrivere la prefazione, ammetto che ero molto emozionata e mi batteva il cuore, perché avevo timore che a lui mi dicesse di sì solo perché magari gli sembrava brutto dirmi di no, e invece l'ha fatto con amore, con cuore, perché ha visto in me la passione, lui dice che io ho la luce negli occhi, e questa cosa mi ha davvero emozionata e mi commuove ogni volta che ci penso. Intanto Giusy Battaglia è pronta per nuovi progetti, continuando con le tante collaborazioni già in corso e soprattutto con il suo programma Giusina in cucina. Sotto l'aspetto editoriale sto ultimando, già è consegnato ma siamo alla fase di correzione del nuovo libro, che uscirà a ottobre e poi continuerò con il mio programma televisivo Giusina in cucina, continuerò ad essere ospite nel programma di Antonella Clerici è sempre mezzogiorno e sono felice.